Arban, rivolgiamo il nastro perché sono successe tante cose, gol dell'ex, fascia da capitano, però partiamo dalla prestazione della squadra, una squadra che davvero ha giocato una grandissima partita in velocità, con grande rabbia, con grande determinazione, una qualificazione ampiamente meritata. No, è stata una partita diciamo praticamente perfetta, comunque dovevamo reagire da questo momento e comunque dico anche a nome della squadra penso che abbiamo reagito in grande modo perché comunque venivamo da un periodo non molto felice, abbiamo cambiato modulo, però non era una partita, non era questione di modulo, era comunque cercare una reazione e tutti abbiamo reagito. Questa reazione però si è vista fin da subito, al di là dei gol segnati, proprio anche nell'approccio feroce alla partita. Sì, sì, tutti gli interpreti della gara abbiamo cercato di aggredire subito la partita perché sapevamo che comunque la partita la potevamo indirizzare verso un certo modo, siamo riusciti, abbiamo vinto tutti i duelli, veramente anche i ragazzi della primavera, Di Mario, Gianmarresi, anche lo stesso Reali che ha fatto un gran gol, devo farli a tutti i complimenti. Racconti anche poi l'emozione sia per il gol, il primo stagionale e poi anche veramente per aver giocato con la fascia di capitano. È stato un mix di emozioni, vi dico la verità, non me l'aspettavo, è un orgoglio per me vestire la fascia di capitano, comunque sono qua da un anno e mezzo, però mi sento parte di questa squadra, mi sento parte di questo progetto, sono orgoglioso, ripeto, fare il gol con la fascia di capitano è stato veramente una cosa molto emozionante.